Dopo la prima intervista con Serena Milano ho avuto il piacere di reintervistarla per approfondire con lei la storia della sua malattia ma soprattutto quella della sua guarigione. Quali sono le emozioni che ha vissuto e le difficoltà che ha dovuto superare e quali strategie ha dovuto mettere in campo per guarire e trasformare la propria malattia in una vita di successo? Lo scopriamo insieme in questa seconda intervista. Ovviamente se non hai ancora ascoltato la prima ti consiglio di farlo al più presto. Nel frattempo ti lascio la voce di Serena Milano. Alza il volume e buon ascolto! Buongiorno e benvenuti a tutti nella puntata di oggi di Una mela al giorno. Oggi ho il piacere di avere un ospite che è già stato presente con noi qualche puntata fa. Si tratta di Serena Milano, una autrice e scrittrice che ci ha parlato della sua esperienza con la malattia nello specifico ha avuto una neoplasia maligna a livello della tiroide che l'ha affrontata integrando la sua esperienza con la medicina ufficiale anche con la medicina integrata alternativa con la metamedicina. E quindi andiamo a approfondire un po' quella che è stata la sua storia. Le chiamiamo immediatamente qui con noi in presenza. Buongiorno Serena e bentornata tra di noi. Buongiorno Paolo che piacere ritornare. Mi fa piacere averti qui e poter passare ancora del tempo con te. Nella prima intervista ci hai raccontato un po' chi sei, ci hai parlato di te e del libro che abbiamo accennato, che hai scritto e di quello che stai facendo anche per sostenere chi nella propria storia, nella propria esperienza, può incontrare una storia che è simile alla tua, cioè un'esperienza sempre di sofferenza e di impatto forte con un'informazione che arriva dalla storia di malattia. Quindi con una prima comunicazione molto fredda su quello che è tu stai male, prima eri quella sana che pensava alla sua vita in un certo modo e da lì in poi invece sei la persona che è ammalata, che quindi non sa quanto tempo di rimanere davanti, comincia una serie di domande, di loop e di emozioni particolari. Allora tu ci hai detto che la prima volta che ti hanno comunicato un po' la diagnosi è stato un momento abbastanza forte per te e di impatto e vorrei sapere, tu ci hai raccontato in un episodio che hai suddiviso sostanzialmente il percorso che ti hanno proposto in quattro tappe, le hai scritte su dei post-it in modo da poter affrontare una cosa alla volta. Ti chiedo un'informazione in più, questa è stata la tua strategia personale davanti al percorso che ti hanno proposto, quindi una valutazione, una chirurgia, una terapia e poi la chiusura del tutto una volta che saresti guarita. Ma da un punto di vista invece delle emozioni, della tua famiglia, dell'aspetto delle relazioni con gli amici, come è andata, che cose ti ha dato d'aiuto, che ti è stato di supporto e quali invece sono state le difficoltà che hai vissuto in prima persona in quei momenti, nella misura in cui ti senti proprio di condividerlo. Allora, dunque, dal punto di vista delle emozioni, per quanto riguarda la parte medica, vieni lasciato a te stesso, non ti seguono, è affar tuo, come ti gestisci. Io, dunque, cosa posso dirti? I miei genitori erano sconvolti tanto quanto me, forse di più, e oggi che sono mamma, capisco la profonda sofferenza che devono aver provato e il loro spavento. Quello che era il mio compagno, adesso marito, è stato una roccia nel sostenermi, ma poi mi ha confessato di aver avuto tanta paura, tantissima. E per quanto riguarda le amicizie, ho avuto tantissime dimostrazioni di affetto. Però c'è sempre per tutti questa tua condizione cambiata, ok? Eri la persona sana, adesso sei la persona malata. Io non avevo piacere di essere etichettata in quel modo. Io ho chiesto espressamente di non essere vista come la persona malata. Ho chiesto a tutti di pensare a me come se fossi già guarita, ok? Io non avevo niente di più e niente di meno di prima. Ero sempre io. Stavo vivendo una cosa difficile, ma ero sempre io. Nella mia famiglia c'è questa zia che è una psicoterapeuta, è la dottoressa Stefania Benzi, ed è stata lei a parlarmi di metamedicina. Ed è stata lei a seguirmi, a supportarmi e a darmi i primi strumenti per apprendere quante risorse potevo trovare in me stessa. Quindi c'è stato tanto supporto da quel punto di vista e l'ho trovato all'interno dei libri. Io sono un po' un topolino da biblioteca, ho sempre il naso nei libri. Quindi è lì che trovo la mia fonte maggiore di sapere. È sempre stato così fin da quando ero bambina, da quando ho iniziato a leggere. È proprio un mio tratto distintivo. E in questi libri di metamedicina mi hanno colpito molto perché spiegavano la connessione tra ciò che accadeva fuori e la ripercussione che c'era dentro. Che di solito non viene presa mai in considerazione. O meglio, se ti fai male a un ginocchio, ti sei fatto male a un ginocchio, per casualità. Se ti viene un cancro, ti è venuto un cancro, per casualità. Poteva succedere a te, poteva succedere a quell'altro e non c'entra se sei bello, brutto, ricco, basso, magro, grasso, povero. Non c'entra niente. È randomica, è a fortuna. E invece no. La metamedicina ti spiega bene perché viene colpito un organo piuttosto di un altro e che domande dovresti porti e come risuonano in te. Che risposte ti dai a quelle domande che ti vengono proposte. Nel mio caso era la tiroide, quindi la tiroide centro della comunicazione. E diceva chiaramente che un problema alla tiroide era qualcosa di non verbalizzato. Qualcosa che avevi trattenuto, che avevi mandato giù a forza e te l'eri tenuto in gola. Il famoso rospo in gola. Ok? In un linguaggio figurato il rospo in gola. Le cose che hai qua. E che dovresti buttare fuori e che invece trattieni. Tipica manifestazione fisica di una tiroide malata è il collo che si gonfia infatti. Sì, il gozzo. Il gozzo. Esatto. Crego, comunque un nodulo. Qualcosa che ti deturpa la forma del collo. Che non è più esile ma diventa deforme. Quindi qualcosa che hai trattenuto. Mi sono andata a chiedere cosa avevo trattenuto. E mi sono resa conto che effettivamente nella mia vita c'erano tantissimi aspetti che io avrei modificato, che avrei voluto cambiare, cose che avrei voluto dire. Ma che non potevo. Non potevo o non ero capace. O non avevo il coraggio. Perché non ti concedevi di dire. Non ti concedevo. Esatto. Io faccio sempre una distinzione. Ognuno è responsabile di se stesso. Quindi non ti sto dicendo io non le dicevo perché qualcuno me lo impediva. Ok? Io non le dicevo perché magari io non mi sentivo in grado. Io non avevo il coraggio. Non sto dando la colpa a nessuno. Quella era la conseguenza di miei comportamenti. Di un mio modo di essere. E ho iniziato a parlare. Ho iniziato a esprimermi. Poi io non sono bravissima con le parole. Nel senso che tante volte... Come no? Ti sento che stai fluente e hai scritto anche... No. Allora nel parlato incespico molto. Devo pensare un po' prima. Dare un ordine. Perché ho il vizio di pensare veloce. E il parlato richiede un tempo che non puoi accorciare. Mentre ho trovato un mio canale di espressione nella scrittura. Nella scrittura lì io trovo la mia dimensione. Fluisce tutto. La cosa che io ho sempre notato è che nel momento in cui io mi concedo di esprimermi scrivendo. Quindi parlando attraverso le mani. Parlando attraverso la tastiera. È comunque una forma di verbalizzazione. Io lì sono nella mia dimensione. Sono nel mio equilibrio. E questo mi dà la possibilità di esprimermi. E io avevo bisogno di questo. Quindi è stato un po' un dato terapeutico proprio il poter scrivere e decidere di scrivere. Esatto. Era una mia esigenza. Fortunatamente lo so fare. Ho questa qualità. Se mi chiedi di disegnare, no. E quindi ho messo a frutto questa mia qualità che si sposava benissimo con quello che era un mio bisogno di riequilibrio fisico. Guarda che io partivo da una situazione veramente allucinante da certi punti di vista. Io ho avuto la passione, perché poi ti faccio un passo indietro, scusa. Io ho sempre avuto il sentire di dovermi esprimere. Ecco. E avevo intrapreso da ragazzina, da adolescente la strada del canto. Mi piaceva. Quindi mi ero scritta all'accademia di canto. Avevo il mio gruppo. Quando questa cosa ha iniziato ad essere un attimino rodata e potevamo esibirci in pubblico, quindi punto d'arrivo per chi fa queste cose, io andavo veramente in crisi. Al pensiero di utilizzare la mia voce, stavo male. Ma stavo male arrivando ad avere delle vere e proprie crisi di vomito. addirittura. Esatto. Io non riuscivo a gestire le mie emozioni in quel momento. Non ce la facevo. Qui è stata necessaria veramente tanta, tanta, tanta crescita per prendere consapevolezza di me e poi esprimermi. Quindi in quel caso avevi interrotto l'esperienza del cantare con il gruppo oppure sei riuscita a superarla? No, 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 no. Ho chiuso tutto e basta. Ah, è stata una cosa che ti ha proprio bloccato completamente. Lì la paura è stata molto forte. Ero completamente bloccata, tanto che poi qualche anno dopo, bam, è esploso tutto in gola. Quello più altre cose. Adesso io ti ho fatto solo un esempio. Non so, dare l'esame all'università mi procurava la stessa ansia, dover dire delle cose, parlare in pubblico. Per me erano tutte cose di ansia. Nel momento in cui mi veniva chiesto di esprimermi, io non ce la facevo. La malattia mi ha aiutato a crescere, mi ha aiutato a cambiare. Ed è per questo che tante volte io invito a guardare quante cose la malattia ti costringe ad affrontare e che diventano poi abilità tue che hai appreso, qualità tue che hai tirato fuori finalmente. Ed è per questo che io dico sempre che io sono grata alla malattia. Perché sì, è stata durissima, è stata forte, è stata molto incisiva, ma mi ha fatto fare tanti passi in avanti che forse avrei fatto in un tempo più lungo o forse non l'avrei mai fatto, chi lo sa. Questo è un aspetto della malattia che a volte chi sta male ovviamente fa difficoltà a vedere. È una cosa che si può vedere solo a posteriori. E quindi qualcuno dice, eh sì, tu sei fortunato, la vedi così perché adesso sei guarito. esatto. E quindi vedi aspetti positivi. E invece il grosso lavoro che la metamedicina mi ha aiutato a fare è stato educare la mente a cercare di vedere le cose belle che stavo imparando nel processo. Perché hai ragione quando dici sì, è facile dirlo dopo. Sì, dopo sì. Ma il fatto è che le ospa te le fai mentre sei dentro. Ok? E questo è stato il grosso lavoro. E vedere queste connessioni e iniziare già a cambiare abitudini, modi di fare mentre sei nella tempesta, possiamo dire, ti permette di rafforzarti e di formarti lì dentro. Se tu ogni sera vai a letto e sei grato per qualcosa, anche se è stata una giornata brutta perché tu sai che sei malato, sai che hai un intervento chirurgico che ti aspetta o comunque dei passi difficili. Ma se quel giorno tu riesci a staccarti e a capire che c'è stata una cosa bella che ti è successa, tu hai già fatto un passo da gigante. E come hai fatto tu? Immagino una sera in cui dici guarda io fra due giorni ho un intervento chirurgico oppure fra tre giorni dovrò cominciare una radioterapia che sarà molto pesante. come facevi alla sera a guardare la tua giornata e a dire sì guarda, però sai cosa? Che fortuna oggi mi è accaduto questo, invece di dire cacchio, mercoledì c'è l'intervento, mercoledì c'è l'intervento. Che strategia utilizzavi per poter sostituire quel pensiero che credo sia ricorrente una volta che uno ha una spada di Adamocle sopra la testa, continua a pensare a quello, continua a pensare a quello e sostituirlo invece con un pensiero di gratitudine, con un pensiero che ti portava a vedere comunque quello che avevi avuto come dono in quella giornata e ringraziare, che poteva essere, non so, un contatto con una persona, una chiacchierata, un film visto, nel tempo passato con l'uomo che ami o con la famiglia. Ti veniva naturale o avevi delle strategie tue? No, di naturale no, te l'ho detto, bisogna educarsi a queste cose, non vengono naturali se non sei stato cresciuto in quel modo e non ce le hai già come apprendimenti tuoi. Io mi sono dovuta auto-educare a fare questa cosa, quindi pensavo alla mia spada di Damocle dicendo, oh caspita mancano tot giorni, ho paura, non voglio, mammi perché a me e quindi tutto quel lato lì. Gli davo spazio perché comunque c'era, lo dovevo accettare, non potevo far finta che non ci fosse, era anche lui lì. E poi dicevo, è vero, però non lo so, oggi hai trascorso una bella giornata con i tuoi amici, eri in mezzo a tanti tuoi amici che ti hanno dato tante dimostrazioni, da quanto tempo non ti succedeva? Tanto. Allora in fondo è stata una buona giornata, anche se il resto che vedi non ti piace, c'era quella parte bella lì, sì. Bene, la sera dopo, sempre tutte le lamentere perché non volevo quello che stava succedendo, però ti è capitata quest'altra bella cosa, l'hai vista? Sì. Ti sei accorta che ti è successa? Sì. E allora c'è del bello anche nel brutto. Quindi sei allenata. Ti devi allenare. Io nelle momenti di difficoltà, quando magari ero solo, perché ci sono dei momenti in cui sei solo, magari in camera tua, stai andando a letto, sei in bagno, sei in un ufficio, stai guidando, ci sono dei momenti in cui sei solo. Gestire i pensieri e portarli sull'aspetto positivo è sempre stato molto complesso. Mi ha sempre molto aiutato parlare con delle altre persone, ma quando sei solo non hai altre persone, se non queste persone ti vengono vicine con la lettura. Tu sei solo, puoi leggere qualcosa e ti avvicini al pensiero dell'autore, all'esperienza dell'autore. L'ho trovato in questo grande supporto perché mi ha concesso di passare dei momenti con delle persone brillanti, delle persone che hanno avuto coraggio, delle persone che hanno affrontato le cose e stare con loro, con questi autori, mi aiutava proprio a cambiare l'ordine dei miei pensieri. Perché di solito assumiamo la modalità di vedere le cose, di pensare di chi ci sta vicino. E se queste persone che ci stanno vicino fossero proprio questi autori, queste persone che hanno scritto, che hanno superato, che sono persone che consideriamo straordinarie, ecco che potrebbe essere un aiuto in quel momento di difficoltà, la lettura di magari un capitolo, un paragrafo di un libro che ci fa svoltare, ci dà un'idea, un'intuizione. Così come il tuo libro potrebbe essere per qualcuno, per te c'è stato un libro, qualcosa che ha fatto veramente la differenza, un film che hai guardato, che hai detto guarda quello me l'ho guardato dieci volte perché è veramente stato il tuo, la tua ancora di supporto piuttosto che il punto su cui hai fatto leva. Sì, per me è stato, ogni sintomo è un messaggio di Claudia Rainville. È stato quello, è proprio, è diventato il mio feticcio quel libro, cioè l'avevo sempre in mano, sembrava Dona a bollio fare quel libro. L'oggetto transazionale, tipo l'orsacchiotto. Il mio orsacchiotto era quel libro. E la parte su come funziona il cervello, io ho rimasta affascinata a quella cosa, specialmente dove lei spiega il cervello è un organo un po' stupido perché vive di abitudini e non sa distinguere se è un'abitudine buona o un'abitudine cattiva e io quell'esempio me lo ricorderò sempre. Tanto che diceva, se tutti i giorni alle 5 ti dessero uno schiaffo, il giorno che non ti danno lo schiaffo tu ti dici, oh perbacco, come mai? Sei così un po' stupito, non riesci a vedere il benessere del fatto che non hai ricevuto uno schiaffo. Quindi la conclusione era, vedi che tu viaggi di abitudini e se le tue abitudini fossero sbagliate? E allora io dico, vedi, le mie abitudini sono sbagliate, ma io posso cambiare, posso gestire io il mio cervello che in fondo è un po' stupido, quindi c'è ancora un altro qualcosa più indietro che lo può comandare e posso fare qualcosa. Ed era quello che per me era proprio quel punto di ripartenza, il fatto di poter fare qualcosa, per me era fondamentale. Vedere la possibilità di agire in maniera concreta e di interagire per aumentare la qualità della tua vita, qualsiasi fosse poi il tuo destino, che qualsiasi cosa fosse accaduta in un futuro. Esatto. Poi alla fine sei riuscita comunque a venirne fuori, di solito c'è sempre una finestra in cui ti dicono, guarda sei guarito, bisogna che facciamo i nostri controlli. Guarda i controlli che sono stati per me. Esattamente, quindi come hai vissuto anche quella parte successiva e comunque hai avuto il coraggio e la voglia di intraprendere un percorso con il tuo compagno o marito per avere comunque un figlio. Quindi hai continuato a scommettere su la vita, su di te, su di voi e su qualcosa che andava avanti. Sì, sì perché secondo me se ti viene dato il dono di riavere un'altra vita, hai il dovere, è veramente il dovere di viverla al meglio delle tue capacità e delle tue possibilità, ok? E se hai dei desideri è un tuo dovere realizzarli. Tu ce li hai, sono tuoi, ti devi ascoltare. Per me avere una famiglia è stato un po' io che lo chiamo il mio totem della guarigione, ok? Quindi io sapevo che prima o poi sarebbe arrivato, non sapevo quando, non sapevo come, ero molto giovane, ma io sapevo che ci sarei arrivata lì. Bene. E quindi il percorso è stato su quello. E niente, fondamentalmente, devi veramente sempre scommettere su di te. Tu hai anche cambiato da un punto di vista lavorativo. Cioè sei passata da un lavoro da commessa sostanzialmente, in cui tu sostanzialmente mi dicevi che facevi degli esami, quindi stavi studiando all'università, non so se hai completato il percorso universitario online, ok? E quindi sei passata dal classico lavoro, o faccio l'università e poi mi laureo e cerco lavoro, al ok, faccio qualcosa che fa parte della tua passione, aiuta gli altri, lo sentimento delle tue cose. Quindi hai cominciato a formarti per delle conoscenze dal punto di vista terapeutico e a scrivere, per me dicevi che scrivi solo delle tue esperienze. Quindi hai scritto su quello che era l'esperienza nella gestione dei bambini, perché è un'esperienza che hai vissuto e poi sulla diventare mamma, quindi l'esperienza della tua gravidanza. Però hai deciso di proprio dedicarci del tempo e di scrivere e farlo diventare proprio un lavoro e di fatto quello che è accaduto è che hai avuto la possibilità di farlo. Quindi c'è stato un percorso di ok, mollo qualcosa per credere di poter fare qualcos'altro e poi poterlo realizzare, che è un po' un riflesso di quello che accadeva nella malattia, no? Mollo un concetto del mio corpo che sta in un certo modo, mi dicono che non era proprio così e poi faccio tutto per costruire un cambiamento e tornare ad avere un corpo sano. Anche lì come è stato questo passaggio e secondo te se ha influito sul tuo processo di guarigione oppure no? Secondo me sì. Allora innanzitutto, vabbè, ti dico, era un lavoro che io facevo in affiancamento all'università, per cui non l'ho mai considerato il mio vero lavoro, ok? Era un modo di fare quattro soldini per intanto che studiavo. Ero giovane, mi facevo i miei quattro sfittetti, potevo studiare e potevo, studiavo lingue, mediazione linguistica e culturale e potevo mettere in pratica le lingue che stavo studiando, perché lavoravo in centro a Milano, studiavo russo, c'erano tanti russi che transitavano, per cui... Tutti esercitavi. E sì, mi potevo esercitare. Poi, in realtà, gli studi li ho interrotti dopo la malattia, perché comunque subire un intervento chirurgico di otto ore mi ha lasciato proprio dei vuoti di memoria a lungo, io non mi ricordavo le cose e non riuscivo più a studiare, ma non riuscivo neanche a leggere un giornale di gossip. Arrivato alla fine dell'articolo, io non mi ricordavo l'inizio. Capisci che era necessario fare qualcosa. E quindi nel frattempo ho detto, bene, andiamo avanti da un'altra parte. Ho provato a dire, no, ok, lavorare come commessa mi porta fuori tantissime ore, io voglio una vita normale, voglio stare in un ufficio, così... E ho trovato il lavoro, perché poi se tu chiedi, le cose arrivano, eh? L'ho trovato. Ma caspita, mi sono resa conto che neanche lì stavo bene, perché questa monotonia e questa ripetitività, io faticavo a gestirla, non potevo esprimermi nemmeno lì, non andava bene nemmeno quello. E allora ho detto, bene, ciao, sai cosa facciamo? Mettiamoci in gioco. La mia passione sono sempre stati bimbi, io ho sempre avuto un rapporto facile con i bambini, loro mi cercano, io cerco loro, ci troviamo in sintonia e mi sono messa a lavorare con i bambini. Ho trovato lavoro prima come tata, poi come insegnante d'inglese e infine in una scuola dell'infanzia. Sono state tutte esperienze per me estremamente formative, anche lì mi hanno riportata in contatto con la mia parte infantile, che a volte tendi un po' a dimenticare nell'età adulta, no? A reprimere, a dimenticare. E per me, nonostante fossi io l'adulto lì, in realtà tante cose mi sono state insegnate da loro. E questo è stato proprio una crescita e ho affiancato la scrittura e il lavoro con i bambini per molto, molto tempo. E ho trovato la mia dimensione. E da lì, quando tu dici, tu scrivi di quello che vivi, sì, perché se hai la fortuna di esserti posto degli obiettivi, la vita ti dà degli insegnamenti tutti i giorni. Quindi l'insegnamento che magari ti può sembrare piccolino ti arriva in un momento della giornata che consideri sciocco o tempo libero o un momento così di transito. Invece no, ti dà un insegnamento molto importante e se tu lo cogli, lo puoi fissare. Io, grazie alla scrittura, fisso le cose che mi succedono. Per me è una sorta di diario di bordo. E i bambini, prima tutti quelli con cui ho avuto la fortuna di lavorare e adesso il mio, per me sono una grandissimissimissima fonte di insegnamento. Poi insomma, tu ne hai tante, quindi lo sai meglio di me. Quindi da lì sono nati gli altri due libri. Mi ricordi i titoli di questi due libri? C'è Memorie di una tata, Come i bambini ci insegnano la vita, sottotitolo, di Anima Edizioni, esattamente come ho scelto di guarire. E sempre di Anima Edizione, Manuale di sopravvivenza alla gravidanza. Ok, questo è l'ultimo che hai scritto. Ok, e tu comunque ti occupi anche di fare un'attività come ghostwriter. Cioè, scrivi e aiuti delle altre persone che magari hanno più difficoltà, non hanno il tempo di esprimersi nella scrittura, a tradurre le loro idee, i loro pensieri in qualcosa di scritto. È corretto? Esatto, che poi ghostwriter, scrittore fantasma, è un po' come espressione. Ho trovato una dicitura che mi piace di più. Mi piace essere di più una sarta dei libri. Bello! È bellissimo! Una sarta dei libri. Tu vai dal sarto con il tessuto e ti fa un vestito per te, su di te, che ti esalta. Tu vieni da me con le parole, con un'idea, e io le lavoro e faccio un libro per te, su di te, e che ti esalta. Molto bello! Molto bello! Senti, visto che stiamo andando in chiusura anche oggi, è stato di nuovo un piacere averti qui, ti chiedo se puoi darci riferimenti, se una persona volesse comunicare con te per magari confrontarsi sull'aspetto dell'esperienza che hai vissuto, o invece, visto che fai questo lavoro molto particolare, volesse avvicinarsi a te per capire come funziona la tua professione e magari capire come puoi aiutare il professionista o magari un'azienda a scrivere, a stendere un racconto, un libro o qualcosa che parli della loro vita e della loro attività. Come funziona? Cosa bisogna fare? Hai un sito? Hai un riferimento? Allora, guarda, io sono un po' onnipresente, nel senso che mi potete trovare su Facebook, c'è la mia pagina ufficiale Serena Milano, ci sono solo due. Poi c'è l'email a cui contattarmi, che è ho scelto di guarire chiocciola gmail.com. Oppure c'è su WordPress il mio sito, Milano Serena su WordPress e sono fruibile anche da lì, da lì c'è il mio blog. Poi io sono un po' una chiacchierona, quindi se mi contattate, chiedete un po' le parole, le faccio sempre volentieri. Molto bene, molto bene Serena. Ti faccio, come sempre, l'ultima domanda. La volta scorsa ti ho chiesto se avessi incontrato te stessa, dopo il primo impatto con la malattia, che cosa avresti fatto, che cosa ti saresti detto, mi avrei abbracciata e avrei detto, guarda, tu non lo sai, ma dentro di te ci sono tutti gli strumenti per affrontare ogni difficoltà per andare avanti. Allora, adesso ti faccio fare un esercizio ancora un pochino più forte. Non so se in questi momenti, nella tua vita di oggi, ci sono dei momenti in cui ripensi alla malattia e pensi al fatto che possa presentarsi la stessa malattia o possono arrivare delle altre malattie e delle altre cose, perché comunque noi non siamo perfetti, c'è sempre qualcosa da migliorare, quindi potrebbe in qualsiasi momento arrivare. In quel caso, cosa ti diresti come esperienza di oggi? In modo che in un futuro potresti trovarti in una difficoltà e potresti riguardare questa intervista e vedere il messaggio che ti lanci adesso, nel momento in cui sei in forza, stai bene e le cose stanno andando proprio come tu desideri? In quel caso mi direi, caspita, quasi è difficile, hai giocato pesante. In quel caso, aspetta, guarda, mi direi con la consapevolezza di oggi, mi direi, cara Serenella, hai dato la vita a un'altra persona, ridai la vita anche a te, sei un organismo capace di dare vita, ricordatelo. Questo mi direi. Ok, diciamo che la mia voce adesso è un po' rotta perché l'emozione è molto forte, non tanto per la scelta delle parole ma per l'energia che ci hai messo. Auguro che questo messaggio che hai dato per una te stessa del futuro arrivi oggi a tutte quelle persone che ne hanno bisogno, che si chiamino Serena o si chiamano Giovanna o in qualsiasi altro modo, potrebbe essere anche Mario o Marco. Oh, assolutamente, uomini e uomini. Non sono messaggi solo per i maschi o per le femmine, ma spero che raggiungano, che raggiunga questo messaggio tutte le persone che ne sentono l'esigenza e che possa essere veramente una leva per superare solo il passaggio di oggi magari, solo la giornata di oggi, per poter arrivare a domani e vivere una nuova bella esperienza. Ti ringrazio tantissimo Serena anche per oggi, lasceremo tutti i tuoi riferimenti qui nell'episodio, nelle note, in modo che chi vuole raggiungerti possa contattarti e fare magari due chiacchiere con te, aver piaciuto che ho avuto via oggi. Va bene? Ciao, buona giornata. Ciao, grazie, grazie mille. Molto bene, anche oggi è stata un'altra splendida esperienza assieme a Serena Milano che ci ha raccontato ancora di più quello che ha vissuto, è stato veramente un momento, soprattutto alla fine, di commozioni e di forte condivisione. Spero che anche a te le sue parole e la sua esperienza siano d'aiuto per fare un ulteriore passaggio e trovare degli spunti di riflessione per aiutarti a superare il tuo stato di malattia o poter stare vicino a qualcuno che ami, che magari in questo momento sta soffrendo e ha bisogno di supporto. Ti auguro una splendida giornata e noi ci vediamo di nuovo la settimana prossima, sempre di martedì, sempre alle 13, su Una Mela al Giorno. Salute a te, buona giornata, bye bye. Se questa intervista ti è piaciuta e ti è stata utile, iscriviti al canale e clicca sulla campanella così sarai sempre aggiornato sulle ultime novità di Una Mela al Giorno. Inoltre, vieni a visitare il sito www.paolobruniera.it che è stato completamente rinnovato e lì potrai trovare la guida da scaricare gratuita sul metodo Equilibrium. Troverai inoltre un sacco di risorse utili per migliorare il tuo stato di salute. Ti aspetto! Ti ricordo che il 27 settembre ci sarà un importantissimo evento online, la giornata dei guariti, organizzata da Rosa per la vita Onlus. Si tratta di un incontro pomeridiano con testimonianze di persone guarite e con l'intervento di tre importanti personalità del mondo della medicina integrata che sono il dottor Sergio Signori, il dottor Matteo Penzo e il dottor Luca Speciani. Puoi trovare le informazioni con i dettagli sull'evento e su come iscriverti all'interno delle note di questo episodio oppure sul sito www.rosaperlavita.org. Aiutami a sostenere questa iniziativa. Iscriviti all'evento del 27.